Nessuna sospensiva, ma una sollecita definizione del giudizio di merito fissato per l'11 febbraio 2021. Così ha deciso con propria ordinanza la prima sezione del TAR di Catania, sul ricorso proposto dalla Elda Costruzioni SRL contro il commissario del governo, nominato per fronteggiare il dissesto idrogeologico in Sicilia e nei confronti della Mondello Costruzioni SRL. Oggetto del contraddittorio, la graduatoria della gara d'appalto per le opere di consolidamento del centro abitato fra le località Torre e Margi a San Piero Patti per l'importo di oltre 5 milioni 300 mila euro. La Elda Costruzioni SRL è capogruppo di un'associazione temporale di imprese con Amata SRL, rappresentate dagli avvocati Patrizia Stallone e Santi Virga. La Mondello Costruzioni SRL è capogruppo del raccorpamento temporale di imprese con la Cosmac SRL, rappresentate dagli avvocati Andrea Scuderi e Giovanni Mandolfo. Nel ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti è stato chiesto l'allunamento di tutti gli atti riguardanti la gara d'appalto del decreto di aggiudicazione dell'11 novembre 2020 alla Mondello Costruzioni, il subentro nel contratto e risarcimento del danno. Per il TAR le questioni proposte sia nel ricorso introduttivo quanto in quelle per motivi aggiunti sono piuttosto complesse e richiedono l'approfondimento nella fase del merito che è stata fissata per l'11 febbraio 2021.